Pistoia è la migliore ragione per 5 anni di intenso impegno, per continuare a cambiarla ancora e di più. Siamo diventati la capitale italiana della cultura quest'anno, continueremo ad investire nel sapere e nella cultura, nell'educazione e nel diritto di tutti alla conoscenza. Lo faremo con la forza di tutto il centro-sinistra e del principale partito progressista d'Italia ed Europa, il Partito Democratico. Pistoia dovrà essere la capitale per la qualità della vita, il verde, il decoro urbano, la sicurezza sociale. Saremo capitale del diritto ad una mobilità libera e comoda per tutti, anche per chi vada a piedi ed in bicicletta. Continueremo a cambiare insieme alla città, perché Pistoia sia sempre più moderna e giusta, solidale e aperta al mondo.